Loro non credevano nell'amore. Pietro, guardiamo la dottoressa Palletti. E invece... Ci manca l'amore. Loro volevano innamorarsi. Mi manca, mi mancano i bambini, io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E invece... Vattene, per Dio, vattene! La mia vita fa schifo, non ho un uomo, al lavoro mi massacrano. Mi ha abbandonato, mi ha lasciato da solo, con una figlia di un anno. Solo Alex e Nikki credono ancora nell'amore. Scusa, ma ti voglio sposare. Ma quindi è vero, è vero che ti sposerai. Mamma, papà, mi sposo. Ti faccio stanzi, tanti cari auguri. Oh, bravo, bravissimo. Sì, 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 io l'ho capito. No, lascia la mia mancia, non la stacchiamo. Soprattutto mio padre era il più entusiasta. Cambiare casa, fare la spesa e fare conti a fine mese. La casa al mare, davvero un figlio. Stai guardando il mio tatuaggio? Bello, eh? Cinese. Dragone inviolabile. Che carino. Guardi questo. Smile, sposa felice. Guarda, ormai il 50% dei rapporti d'amore nasce su internet. Io ce l'ho messa in generale, se rimorchia una cifra. E anche i tradimenti. Poi io non sono mai stato geloso. Con l'età le cose cambiano, gli ormoni pulsano, i giovani trombano. Mi hai aperto la porta? Io? No. Come l'ha presa Alex? È stata ammazzata a Celserino. Un fulmine. E vabbè, è reo uguale. Vabbè, se dice così, dì. Oh Alex, com'è da ste parti? L'ha lasciato. E poi non è vero, ci sono un sacco di matrimoni che funzionano. Tipo? Tipo noi. Medusa Film e Arella Film presentano Dopo Scusa ma ti chiamo amore, Scusa ma ti voglio sposare. Il nuovo film di Federico Moccia. Dal 12 febbraio al cinema.